Francesca Prina di Varese per la sezione generale con il racconto Svetlana, Rita Mazzon di Padova per la sezione speciale No Alcol con Imperfetta. Sono le vincitrici della dodicesima edizione del concorso letterario Storie di Donne, promosso dalla biblioteca civica Bruno Emmert di Arco con la collaborazione dell'ospedale San Pancrazio, la cui premiazione si è tenuta sabato a Palazzo Panni, ospite Marcello Fois, scrittore, commediografo, sceneggiatore e insegnante di scrittura creativa. Degli 80 racconti partecipanti, come tradizione ne sono stati premiati sei, tre per ogni sezione. Per quella a tema libero, seconda classificata è Laura Marocchi di Riva del Garda con Mia figlia e terza Arianna Lattisi di Arco con Solo tre parole. Per la sezione speciale, seconda classificata è Laura Giuliani di Dro con La Soglia e terza Roberta Cadorin di Udine con il brano dal titolo Somiglianze.